Nell'ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo partenopeo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso intentato omicidio pluri aggravato ai danni di un ufficiale superiore della Guardia di Finanza avvenuto a Bacoli il 21 marzo 2023. La vittima fortunatamente riuscì ad uscire illesa dal proprio mezzo nonostante la violenta deflagrazione. Dalle risultanze investigative sarebbe emerso che l'autore materiale del delitto già tratto in arresto il 16 ottobre 2023 a seguito di un altro provvedimento restrittivo personale emesso dal GIP del capoluogo abbia agito secondo il quadro accusatorio sul mandato dell'ex compagna dell'ufficiale che a sua volta avrebbe potuto contare sul contributo materiale di altre due persone per il confezionamento dell'ordigno artigianale ma non improvvisato adoperato per il grave attentato dinamitardo.